E dicono, essi è buono dai, che noi stiamo a capir' come costruire una rampa di lancio sulla luna per sfruttare la gravità e mandare lo shuttle sul marco Ma capisci, tu stai ancora qua col bozzetto sul papiro, dai, va a giocare con la curione con mio figlio Poi le sei, viene la signora che ti dà le goccette